Il gruppo consigliare di Forza Italia presenta una proposta di legge che intende incidere sulle aperture degli ipermercati abruzzesi nei giorni di festa. Un intervento che i consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri hanno dettagliato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Noi abbiamo presentato una norma e sarà già approvata in commissione che prevede che i centri commerciali e le grandi piattaforme commerciali siano chiuse ogni volta che c'è una festa comandata, sia religiosa o civile, più 12 domeniche sulle 52 di cui è composto un anno solare. Ovviamente i sindaci hanno la possibilità di derogare nel caso di manifestazioni dalla particolare rilevanza che portino un grande afflusso di popolazione nelle loro città per particolari esigenze di approvvigionamento di genere alimentari e naturalmente quando ci sono i periodi turistici di punta delle città che hanno flussi turistici. Ciò a nostro avviso comporterà anche una riscoperta dello stare insieme, dei luoghi delle nostre città, dell'attenzione verso gli anziani e i bambini, cioè ritorniamo un po' a vivere quali nuclei familiari e non a girare come automi all'interno delle gallerie dei centri commerciali.